Bella raga, ciao a tutti dal Comenda Veneziano Continuiamo la campagna a suo impare Allora, ho appena conquistato Sofia e sono pronto con il mio esercito ad avanzare verso nord L'obiettivo è distruggere questi piccoli eserciti e conquistare questa città Signor sì! Avanziamo Vinceremo! Oh bene, 444 unità contro 113 Ragazzi, andiamo a spaccare il culo a stilussi maledetti Inferno! 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 oh la corazzata veneziana ha distrutto l'esercito il primo esercito anzi mini esercito russo bene adesso andiamo ad eliminare definitivamente signore i vostri ordini esercito ok andiamo automaticamente intrepidi imbattuti perfetto seconda battaglia maggioranza assoluta anche qui 307 a 30 altra comoda vittoria adesso l'obiettivo è conquistare gli asi pronti allarmi subito comoda vittoria preparatevi alla battaglia siamo riusciti a conquistare gli asi avanti ordine il paese e la corona allora facciamo un piccolo riassunto delle città conquistate allora roma zagabria sarajevo belgrado patrasso atene sofia clasenburg jasi torino genova bastia ok allora adesso gli obiettivi sono kiev e mosca devo conquistare la capitale per eliminare i russi ok per il momento è tutto io vi ringrazio alla prossima ciao raga ciao ciao ciao